Ciao a tutti, sono arrivato qua a Kuala Lumpur, siamo nell'albergo e oggi mi sto un po' riposando e visto che da venerdì si inizierà a provare e niente, ho voglia di scendere in pista perché dopo la gara in Australia ho voglia di ritornare sulla moto e poi in Malesia nei test sono andato molto forte quest'anno quindi penso che si possa fare molto bene e niente, cominceremo da venerdì a sgasare, a provare di salire sempre sul podio magari a sto giro sul gradino, quello centrale che è più carino, più alto, risulta anche meglio dalla televisione magari Ciao a tutti!